Allora siamo a Palenzeppe oggi è venerdì e qua sono mezzogiorno, sono le 11 e 10. Volemo salutare tutti quelli che ci vedono, che ci ascoltano e buon Natale a tutti quanti. E buon anno, buon anno! Buon anno a Salisciano! Ben al 300 sempre così, in buona salute! E se ti vuole mangiare le zeppole venite qua